Da domani 4 maggio 2018 al 6 maggio ci sarà l'International Tattoo Expo all'Eur per la precisione al Palazzo dei Congressi dove ci sarà questa chiamiamola vera e propria manifestazione del tatuaccio, un tratto che esprime la personalità umana tanti tatuatori famosi che ci saranno ma ci sarà anche la voglia di evidenziare l'arte in questione ogni anno infatti la permessa in questione raccoglie anche personaggi di spicco che vengono da ogni parte d'Italia per partecipare e per prenderne parte sto parlando per esempio di Asia Argento che a volte per l'appunto fa tappa in questa international tattoo tv expo ad altri personaggi che appartengono al mondo della tv italiana Beh, complimenti dunque a chi ha deciso di realizzare questa chiamiamola kermesse sul tatuaggio che sono convinto premierà la capacità di questi grandi professionisti spero che ci sarà anche il buon Fabio Onorini carissimo amico che ho avuto il piacere di conoscere perché mi ha fatto due tatuaggi ma anche per la sua grande professionalità grazie ancora a tutti, un saluto, complimenti a tutti i tatuatori d'Italia perché tutti sono davvero davvero molto molto bravi e sono molto in gamma Bene, un saluto e al prossimo video da Naratori Italiani